buongiorno a tutti ragazzi ben trovati in questa nuova analisi con fabrizio dopo la notturna di ieri e bitcoin continua a dare segnali incoraggianti però c'è il però che stiamo attendendo la rottura di quella resistenza fortissima di 39.300 per poi spingerci a bomba verso i 40.000 come al solito non sono consigli finanziari è la mia visione dei mercati pura didattica e approccio al grafico ovviamente per quello che riguarda l'ottica di giornata sicuramente il mercato è in crescita per quello che riguarda invece un'ottica più su un time frame e un trend di breve periodo quindi più giorni di operatività al momento siamo ancora in crescita nonostante questa grossa barriera dei 39.2 ovviamente già sapete quella che è la mia idea io rivedrò bitcoin secondo la mia operatività lavorare bene quando riuscirà a rompere prima 40 e poi 44 mila dice grazie al cacchio è però sono questi livelli che io ho individuato e su questi voglio continuare a lavorare poi cosa importante voglio mostrarvi con precisione anche quello che è una opportunità intraday comunque un grafico intraday per capire qualcosina in più vi sistemo qui le candele vediamo come in questa fase proprio specifica c'è una sorta di scarico perché comunque la resistenza si fa sentire tanto però il mercato è assolutamente positivo già da diverse ore e praticamente è solo in queste ultime diciamo nella notte che ha subito una fase di rallentamento altrimenti c'era a tutti gli effetti tutte indicazioni orientate al rialzo addirittura con volumi intraday molto forti quindi assolutamente di interesse ok questo è un po' quello che riguarda bitcoin oggi farò tanti mini video trattando nello specifico diverse cripto tra quelle richieste sono quelle che più mi appassionano ovviamente cercherò di fare video sempre più dettagliati e precisi cosa importante è non però avvalersi semplicemente delle analisi che si vedono ma approfondire cercare di capire il tipo di operatività che è più confacente alla nostra al nostro tipo di trading o comunque di investimenti quindi se facciamo investimenti magari il grafico h1 neanche lo andiamo a vedere se invece facciamo per attività veloce anche di 2-3 ore o addirittura intraday anche di 6-7 ore comunque in giornata possiamo avvalerci di un grafico h1 che sicuramente ci dà qualche indicazione in più insomma questo è quanto per quello che riguarda bitcoin io vi auguro una buona giornata ci vediamo più tardi con le prossime analisi intanto iscriviti al canale lascia su il pollicione se il video ti è piaciuto e ti ricordo che c'è la possibilità di iscriversi al gruppo telegram quello aperto gratuito cliccando nel link giù in descrizione ciao a tutti e buona giornata